Si chiama Zoe Gray, è una bellissima moderna ma è anche un'attrice che diciamo ha l'abitudine di trovarsi davanti alla videocamera perché per un motivo o per un altro facendo l'attrice si ritrova a svolgere questo tipo di lavoro. E pensate che questa compagna è fidanzata con un uomo di 9 metri, 36 anni d'età, il quale pensate che è diventato uno scambista, infatti avrebbe subito dei ritradimenti da parte di diverse ragazze e donne mentre stava prestando il servizio per l'amato paese. Così ha deciso di cambiare vita, ha fatto diversi tour nel Medio Oriente, in Iraq e in Afghanistan ma ha voluto anche cambiare vita diventando diciamo così uno scambista. e proprio tutti i tradimenti avuti lo hanno portato a cambiare rotta bibliografica e per l'appunto diventare uno scambista in questo modo non soffre più, può contare sul fatto che è uno scambista e può avere diciamo così dei rapporti con donne che in qualche modo barra in qualche maniera non gli creano problemi o ansia. Bene, ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, scrivetevi, commentate, e ciò di andare da direi.